E' arrivato adesso il momento di proseguire con un'esibizione di ballo Veronica, sempre dalla scuola Gran Ballo New Dance, adesso entrano in scena Stefano Nonna e Chiara Cossu. E' arrivato adesso il momento di proseguire con un'esibizione di ballo Veronica, sempre dalla scuola Gran Ballo New Dance, adesso entrano in scena Stefano Nonna e Chiara Cossu. Stavolta ascoltami, senza interrompere, da tanto tempo che, volevo dirtelo, vivere insieme a te, è stato inutile. Tutto senza allegri, senza una lacrima, niente da aggiungere. E' da dividere, dalla tua trappola, ci sono caduto anche, avanti prossimo, gli lascio il posto mio. Povero diavolo. Che pena mi fa, e quando ho letto lui, ti chiederà di più. Che non cederai, perché tu fai così, come sai vincere, se ti fa comodo. Che non cederai, perché tu fai così, come sai vincere. E adesso spogliati, come sai vincere. Ma non cederai, perché tu fai così, come sai vincere. Che non cederai, perché tu fai così, come sai vincere. Che non cederai, perché tu ti fai così, come sai vincere. Stefano Nonna e Chiara Cossu, un'esibizione veramente molto bella, grazie ragazzi e complimenti. Stefano Nonna e Chiara Cossu, della scuola Gran Ballo New Dance di Sassari, di Alessandro e Caterina, che adesso chiuderanno praticamente questa puntata di voci e suoni dedicata alle tre S, sport, spettacolo e solidarietà. In chiusura un ringraziamento ovviamente va agli operatori di ripresa, Lello Fadda, Federico Baricordi, l'assistente Franco Chessa, poi un ringraziamento alla regia di Antonio Solinas e ovviamente al patron che ha organizzato questa serata, Enzo Vanacore, alla Stella del Mediterraneo che ci ha accolto e chiudiamo con Stefano Nonna e Chiara Cossu del Gran Ballo New Dance. Arrivederci a tutti e alla prossima! Musica 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 Sous-titrage Société Radio-Canada